Signori benvenuti e bentornati in questo fantastico nuovo episodio di Rainbow Six Siege dove io vi vado a spiegare tutto quello che faccio all'interno della partita ranked Siamo su PS5 come sempre Prima di conoscere un bel mi piace, un commento, un'iscrizione Io ragazzi sono contentissimo che questa serie vi continui a piacere Fatemelo sapere ovviamente tramite mi piace, commenti e iscrizioni Più supporto vedo da parte vostra, più ne porto alla settimana In quanto registrandole in live su Twitch Più vedo che volete la serie Più magari mi alleno pure giocando in live su PS5 Quindi migliorando la mira Perché ragazzi il problema delle giocate è la mira Cioè ho tutta la strategia Il problema è che mi mette pure contro gli ex champion diamante Cioè con la mira che ho insomma Quindi fatemelo sapere voi Ultima cosa vi ricordo che faccio coaching privato Se volete tutte le info scrivetemi su Instagram Inoltre un secondo canale dove faccio Fortnite ogni giorno Quindi se volete andare a vedere Fortnite c'è il secondo canale Link in descrizione a Resive 2 E queste sono le mappe che io ho rilasciato E a breve rilascerò una nuova mappa molto figa E ora andiamo col video Allora siamo Oh no c'è Jessica Contro No ma c'è Jessica Contro E insomma Allora si me l'attacco Tutte le mappe portano alla sconfitta Come si dice a Roma In attacco quindi Leviamo Knight dai Vediamo Ti devo dire Oregone Potrebbe essere Insieme a confine Quella più attaccante Delle di tutte Jessica ci ha tradito Jessica prima era con noi E mo sto fedoso Se l'è andato Ha vinto con noi E ha detto ragazzi Medoso Ma cosa no come i calciatori Vincono il campionato E poi si danno Eeeh Male 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 Molto male Molto male Allora l'attacco Attacermelo Leggo al dito Quindi no Attacco Ma che cazzo Police Che sta sul cazzo Police Sondaggio Sondaggio Chat Sondaggio Vedete il sondaggio Allora Eeeh Kapkan Ma intanto abbiamo capito Che il meme è Kapkan Ragazzi Sono se banna Kapkan Non so nessuno Let's go Allora Qui Su Oregon Ragazzi Se mi seguite Ci sapi Sapite Sapite Sapete che Io attacco Spesso con attico Con un altro Prendo maveriche Mo che so solo Io ste tattiche Dello spirit Del tempo Non le posso fare Che C'è capito Un attimo Che non si possono fare Quindi Ci adattiamo Ok Adapting Over the Lord Quindi Noi Potremmo Comunque Prenderemo A gridlock Gli hanno levato Le Pesanti Sta Sono Gli hanno levato Di pesante Possiamo Tranguolamenti Tranguolamenti Prendere Maverick Che dite Lo prendiamo Maverick Oppure Quello Vabbè Ma c'è Touch Lo fa Bricciare Quello Allora Ragazzi Vogliamo Ma ci Sono Le bet Votate Sopra Allora Vogliamo Scommettere Vince Non si Vedono Le bet Devi rifarle E raga Le aveva fatte Non so Buggate Allora Io ragazzi Non mi Mi tengo Il drone Perché Tanto Cioè Mi serve Sapere Sopra Come Sono messo Come no Eh Vince Non le vedono Devi rifare A nulla Ma no Ma tu sei Mamma mia Vince Ma non il sondaggio Ho detto Pronostici Mamma mia Vince Punte Tu madre Slash Prediction Non pull Mamma mia Mamma mia Che babbano Mamma mia Che bibbo Baggins Che c'ho Come mod 40 anni Bruciati Allora Ho fatto Il pole Ho notato Che hai fatto Il pole Allora Andiamo sopra Facciamo Statattica Dello spirito Del tempo Fatemi Come Mamma Vestemmio Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ho rotto La finestra Però Allora Droniamo Nel frattempo Ricarico Facciamo così Là sopra Non c'è nessuno No Eh ragazzi Il controller Ok Non mi dovete rompire Coglione Che c'è Allora Allora Secondo voi Secondo voi Se tipo Lo flancano A questo Ti prego Fai che Non ci sia Una frost C'è Una 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 Legion Ok Ho smirato Da fare schifo Mi droppo Ragazzi Chi vuole morire Io no Ok È morto Mozzie Ma che è qui Sapete Sono fatti Ammazzare Ammazzarevamo Comunque 3v2 Al basso Allora È il primo L'abbiamo vinto Secondo me potrebbero andare anche giù Potrei prendere anche Ragazzi Knock Potrei prendere knock Con le Con le Cariche pesanti Dai Allora vediamo Vediamo Dove stanno Ok Ma non stanno giù Stanno su Che pollo Stanno su Allora Teniamoci il drone Qua Allora Il problema È che Avrei preso anche Ash Solo Faccio Lo Allora Mi tengo Comunque le hard In caso Non si Briccia Proprio Che succedono I casini Peggiudi Ash è forte Come ha rotto La gamma Con lei E anche Mi nonno Allora Vabbè Raga Io seguo Lei Così Se muore Almeno Che palle Ti sei fatto Sgamare Francesco Però Ok Ho fatto Ho fatto doppio Ragazzi Non so Non so Eh ragazzi Lo faccio Dai Era easy Era easy Ma sapete che comunque Ho sparato bene Però Ma secondo me Non me lo merito Però Secondo me Sta cosa Non me la merito Ho sparato bene Dai Tutti i champion Ragazzi Ma io con chi cazzo Sto giocando Ragazzi Ma perché mi matcha Con quelli Come se fossi pc Oh mio dio Mamma mia ragazzi Io mi metto a piangere Per gioco Diamante Champions Tutte cose che c'è Io palesemente Mi metto a piangere Io neanche sui tasti Bravo Nando Oh no E il c4 C'è bella Clamore Mi è piaciuto E' carina Va bene Summer Ok Allora però ragazzi Posso dire che La mira c'era Su quello Su Dietro la bomba C'era L'avevo piazzata bene Poi purtroppo Non mi sono fatto la kill Però vabbè Sti cazzi Abbiamo attaccato bene E abbiamo preso Il bait Bene Di Ash Perché ragazzi Usando Ash Ci siamo fatti Dove essere una kill E poi due però Perché io sapevo Che La copro da 90 Quindi non gli faccio passare Nessuno Appena lei muore Io Pusho Sparando in prefire Perché Ero sicuro Che Ehm Aspettate un attimo Che cazzo prendo Comunque Ero sicuro del push Non so che prendere Perché mi sa che vanno giù Madonna ragazzi Sono decoccio eh Minchia Stanno di nuovo su Che palle Madonna Ma sono decoccio Veramente Oddio Che palle Allora possiamo rifare La strategia Maverick Oddio Sapete che possiamo fare Possiamo fare Proviamo Raga facciamo una cosa figa Facciamo una cosa figa Il drone Me l'ho buttato nel cesso Ah sono giù Ah Vabbè Minchia raga Nessuno A inizio round Ha fatto un passo Premone Grazie mille per il prime Benvenuto Punto esclamativo Vantaggi in chat Per sapere dei vantaggi Thank you so much Comunque raga Nessuno Ha fatto Un passo Cioè non Ce l'ho sentito Ero convintissimo Fossero sapere di nuovo Io devo fare Quello che fai Tu veramente Ma devi farla a metà Sta cazzata Allora C'è Wamai Vicino Io tengo Il pillar Che non Allora fatemi un attimo Dronare Perché mi sa che può essere Pure in Harry Potter Questo Vabbè Non puscio Perché lui mi puscia Qui Perché sa che ce n'è uno Io posso lanciare Il poso E aspettare Magari spunta da lì Ok Aspettiamolo là Perché secondo me Puscia da là Eh ci stava Malamira Ok Dai È uscito Giusto Giusto Quando mi stavo Abbassando Bravo Però Porco Due Pure io Che sfiga Eh raga Mi potevo fare la kill Ma La mira Non qui Dico Prima Quando è passato Dal centro Eh va bene Eh ha bruciato il drone Peccato Eh raga c'è il drone Lui Ma gli posso pingare Perché questo Ti pingo in rosso Perché non posso fare altro Bravo Ok Io ho pingato il rosso Perché c'aveva la cam l'altro E non lo spostava Quindi Va bene Bravo Ottimo Ciao adesso Allora Le strategie le stiamo Attuando Malamira ragazzi Vabbè 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 Dai 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 Piano 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 Se vedo che la serie su youtube Va bene Lo Lo facciamo Cioè miglioro Cioè Continuo a fare live In caso su console Per migliorare Tutto bene Tutto bene Allora kids 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 Cosa facciamo in kids Prendiamo Melusi Ma si dai Prendiamo Melusi Prendiamo Melusi Allora Melusi la mettiamo Io la voglio mettere qui Perché non mi interessa Di metterla là sotto Poi l'altra la metto qui Perché Mi interessa il loro push E Poi L'altro Vabbè Certo L'altro ragazzi Lo metto Qua di Melusi Così appena Prova a scendere Si pecca Il Melusi Purtroppo Non c'ho rotation O altro Se le fanno loro Ok Se no Ragazzi Qua ha fatto lui E la cam Io la metterei Qua Così Ok Dai Eh purtroppo qua Non fanno la rotation Non fanno una mince Serve la rotation Ma cazzo Si pinga Eh doc Fratello Però potresti fare la rotation La Madonna Non si fa mai così Ai 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 doc Ci ha fatto L'ultima Unica Che non doveva farla Ma come cazzo Sei messo C'è back In big Allora Bravo Summer Ragazzi C'è qualcuno Fuori Big Quando si sente Il gun Stanno a push Infatti Non appena push Mi sa che Quello però L'ha ucciso Questi push No da qua Oh merda Allora ragazzi Meglio Perché Con le api Con le api Sono tutti convinti Che Siano Al sicuro Ma le api Se non le spari bene Sono inutili Ok Allora Io sono messo Bene Grazie Fratello Buono Dai Dai Abbiamo già vinto Quattro Minchia ragazzi Una partita Con i fiocchi Bella Clean Ragazzi Era la prima partita Ad oro Perché siamo oro Quindi Tanta roba Dai GGs Abbiamo fatto pure il nostro Tre le due Ovviamente Allora Chi Boh Io non mi ricordo ragazzi Che ha fatto kill Vabbè i primi due Sti cazzi Poi Allora Nando e Zani Che ho fatto Ah l'ultimo È quello L'ultimo Sì beh ha giocato bene Vabbè mi ha Mi ha curato Quindi va bene Vediamo Quanto siamo saliti Vediamo Ma penso sempre di un rank Va De quasi Va Va bene Vabbè Äh Vabbè 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 Grazie a tutti.